e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono loris 98 benvenuti in questa nuova unboxing vedete qui davanti a me il nuovo microsoft surface go 3 questo ragazzi come vedete un tablet diciamo che è un tablet pc con tanto di windows 11 non si vedeva adesso nella questione tutta la confezione tutti i dati qua dietro adesso ragazzi quindi noi lo andremo ad aprire assieme questo microsoft surface go 3 tablet con sistema di windows 11 allora andiamo ad aprirlo facilissimo ad aprire la confezione attenzione alziamo il coperchio ragazzi o le si presenta così questo qua è il coperchio allora si presenta così ragazzi questo è il tablet vedete qua a si alza su così guardate che eccolo ragazzi qua il tablet praticamente questo vedete con con l'ondina qua alla la protezione chissà come come si apre adesso andiamo a spacchettare in qualche modo ragazzi sto cercando di capire se intanto per il resto è una confezione a ecco ok tac così semplicissimamente tolta la carta ragazzi eccolo qua come si presenta il tablet guardate che figata anche dietro vedete così si vede la scritta microsoft con tanto di telecamera posteriore buona sapersi telecamera anche davanti bellissimo questa cosa telecamera dietro telecamera davanti figo eccolo qua ragazzi il tablet pc andiamo a vedere cosa c'è all'interno della sua confezione sposto un attimo il tablet vediamo cosa c'è all'interno della sua confezione allora attiviamo su l'aletta ok qui dentro penso ragazzi che ci siano le le istruzioni per quanta sì ci sono le istruzioni effettivamente ragazzi non è che a noi ci interessano tanto possiamo richiudere questa cosa ormai ragazzi la confezione si presenta veramente con con all'interno poca roba quindi intanto vi voglio augurare buona vigilia a tutti quanti perché oggi è la vigilia di natale ragazzi allora vediamo qui cosa c'è dentro ti diamo su questo bocca porto ragazzi beh come potete vedere non so se si riesca molto a vedere perché c'è sta luce qua che non riesco molto a illuminare ecco così così si vede questo vedete c'è il simbolo della carica qua quindi vuol dire che sicuramente all'interno della scatola si apre da qua c'è tutto l'occorrente ragazzi vediamo un po' attenzione ragazzi c'è questo l'adattatore del tablet guardate che che figata così e poi c'è all'interno ovviamente il suo cavetto eccolo qua mamma mia ragazzi guardate che bestia pazzesco guardate qua con cavetto incorporato mamma mia già una figata pazzesca avendo sto coso beh comunque avete visto come si presenta la confezione questo qua è la scatola vuota allora noi abbiamo a questo punto tirato già fuori tutto quello che riguarda il nostro tablet e allora andiamo velocemente a vederlo come si presenta quindi abbiamo così il nostro tablet eccolo qua e poi abbiamo il suo caricatore questa qua ragazzi ecco questa è la postazione come potete vedere qua vedete il tablet qua vedete il caricatore con questo qua il l'adattatore praticamente da attaccargli dentro qua prende si fa così ragazzi si guardate ve lo mostro qui in nostra compagnia guardate si attacca dentro così ragazzi ecco bisogna fare un po' di forza ecco qua si fare un po' di forza senza che non mi ho addosso qualcosa avete capito comunque di cosa sto dicendo ecco qua il caricatore del tablet ragazzi questo caricatore del tablet vediamo un po' se si accende già al primo impatto vediamo un po' qua sopra ci sono i tasti vedete qui c'è il tastino miracoloso si è acceso ragazzi ecco vedete un po' le funzioni vediamo un po' le nostre funzionalità di questo tablet vedete il logo windows lì che sta caricando vediamo un po' che si accende ragazzi finalmente il tablet pc tablet praticamente un pc tablet con tanto non avrà la parte dietro immagino oh si si ragazzi c'è la parte dietro guardate oh le ah ragazzi avete visto che c'è anche l'appoggio così si può tranquillamente appoggiare il nostro bellissimo tablet ecco qua vedete quello che sta facendo in questo momento il nostro tablet si vede si vede qualcosa si riusciamo un po' ecco qua così si vede qualcosa ragazzi di quello che sta facendo just a moment quindi si sta cominciando a preparare va beh ragazzi e che dire questa era l'unboxing completa di questo regalo di natale che mi è stato fatto da mio zio e da mia nonna il tablet surface go 3 sentite ragazzi il tipico suono di windows su 11 ecco vediamo qua tutte le funzioni che abbiamo in italiano da scegliere la lingua diciamo sì eccolo qua il tablet molto bene detto questo ragazzi vi auguro una buona vigilia di natale a tutti e noi ci vediamo al prossimo video commentate lasciate tanti like iscrivetevi al canale e condividete molto importante buona vigilia a tutti buon natale bella